Si terranno in Abruzzo i campionati europei di calcio a 5 B1 non vedenti, l'evento in programma a Città Sant'Angelo in provincia di Pescara dal 1 al 17 giugno nei campi del centro sportivo Poggio degli Olivi. La manifestazione è stata presentata in settimana a Roma nella sede del Comitato Paralimpico Italiano, alla presenza tra gli altri del presidente del CIP Luca Pancalli e del presidente dell'IBSA, International Blind Sport Federation, il teatino Sandro Di Girolamo. Nell'occasione sono stati effettuati anche i sorteggi della competizione. L'Italia è inserita nel gruppo A a fronte della Francia, Turchia, Grecia e Repubblica Ceca. Nel girone B ci saranno invece i campioni d'Europa in carica della Spagna, l'Inghilterra, la Germania, la Romania e la Polonia. Nella prima settimana di giugno spazio al calcio femminile con le sfide tra Germania e Inghilterra per il titolo europeo e con il Campus IBSA a cui prenderanno parte 15 giovani calciatrici provenienti da numerosi paesi europei. Il 10 giugno via al torneo maschile con la partita inaugurale, mentre la finalissima è in programma il 17 giugno. È un evento molto importante che darà visibilità a IBSA, al calcio non vedenti, al nostro paese, ha commentato il presidente di Girolamo. L'obiettivo, ha aggiunto il presidente del CIP Pancalli, ovviamente è quello non solo di migliorare il buon sesto posto ottenuto nel 2019, ma anche e soprattutto quello di qualificarci per le Paralimpiadi di Parigi 2024.